La sera del 31 maggio brillerà di magnitudine 10,8 tra le stelle della costellazione della bilancia e sarà potenzialmente visibile anche con telescopi amatoriali. È l'asteroide 1998 QE2, la cui orbita raggiungerà proprio in quel momento il punto di massimo avvicinamento alla Terra a circa 6 milioni di chilometri, approssimativamente 15 volte più lontano della Luna. Una distanza di tutta sicurezza per un corpo celeste che altrimenti desterebbe qualche preoccupazione. Si stima infatti che il suo diametro sia di 2,7 chilometri, quanto 9 grandi navi da crociera. Il saluto che l'asteroide tributerà alla Terra, l'ultimo per questo secolo, sarà un'occasione per raccogliere importanti informazioni. 1998 QE2 sarà l'obiettivo delle grandi antenne radar di Goldstone e Arecibo, specializzate in questo tipo di osservazioni. Gli astronomi si aspettano di ottenere una serie di immagini ad alta risoluzione che potrebbero rivelare una grande ricchezza di caratteristiche superficiali. Come dice Lance Banner, responsabile del radar di Goldstone, ogni volta che un asteroide si avvicina alla Terra fornisce un'importante opportunità scientifica per studiarlo in dettaglio e capire la sua dimensione, forma, rotazione, caratteristiche della superficie e indizi sulla sua origine. Useremo le nuove misure radar anche per calcolare la distanza e la velocità dell'asteroide e migliorare il calcolo della sua orbita per prevederne il moto fino ad un futuro più lontano di quanto fosse possibile altrimenti.